La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di 260.000 euro emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di FM di Agropoli per aver riciclato i profitti derivati dall'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dall'appropriazione indebita di beni societari e del falso in bilancio commessi dal padre FG nella sua qualità di amministratore di una nota impresa di perdifumo dedita alla fabbricazione di imballaggi in materie plastiche. Gli approfondimenti investigativi della Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli sono scaturiti da una complessa verifica fiscale al termine della quale è stato accertato che FG, dopo aver presentato bilanci falsi ed omesso di versare l'IVA per due annualità consecutive, aveva anche indebitamente sottratto alle casse societarie circa 330.000 euro destinati al pagamento delle imposte, trasferendoli direttamente su propri conti correnti personali. Ricostruendo le movimentazioni finanziarie, gli stessi finanzieri di Agropoli hanno anche rilevato che FG, deceduto nel 2018, aveva nel frattempo trasferito parte di quelle somme per un ammontare complessivo di circa 260.000 euro sui conti correnti del figlio FM, titolare di un'analoga attività di impresa ad Agropoli. Quest'ultimo ha poi reimpiegato gli stessi capitali per finanziare altre due società, come pure per esigenze personali, l'acquisto di orologi di lusso ed il pagamento di un mutuo per l'acquisto di un appartamento in Spagna. Contestualmente all'esecuzione del provvedimento di sequestro, la Procura della Repubblica ha disposto la perquisizione dell'abitazione di FM eseguita ad Agropoli al fine di reinvenire elementi di interesse ai fini delle indagini e in particolare denaro preziosi, beni mobili e documentazione bancaria utile ad individuare ulteriori disponibilità finanziarie dell'indagato in Italia e all'estero. Sono stati così trovati e sottoposti a sequestro cinque orologi di lusso di cui uno al polso dell'indagato, quote societarie, denaro contante e crediti societari per complessivi 170.000 euro circa. L'operazione di servizio testimonia ancora una volta il prezioso ruolo della Guardia di Finanza tutela della collettività mediante l'azione di contrasto agli illeciti in danno dell'erario.